Per esempio c'è l'EPG, le donne possono decidere nell'assemblea decisioni di l'EPG. Io sono una comandante anche a parte dell'EPG, non è solo dell'EPG, però uomini e compagni maschi non possono decidere per l'EPG. Questo si porta anche un po' di gelosia dai partiti compagni maschi. Ci sono decine brigate delle compagnie donne e ci sono, come posso dire, gruppi, e delle compagnie donne nella zona. Da ovunque parte del mondo ci sono compagnie donne che nell'organizzazione dell'EPG. Come l'EPG è un'anima internazionale, non è nazionale. Quelle donne che vengono dall'altra parte del mondo vivono nell'organizzazione dell'EPG con loro identità, non è che vengono assimilati oppure vengono integrati nella lotta dell'EPG con la zona. C'è un sistema molto trasparente che ogni donna può portare la sua voce nell'assemblea, nella riunione e può fare la sua proposta senza avere pressione, senza avere paura. l'EPG è un'organizzazione riunita, tutti i popoli, tutte le nazioni sul tetto, e anche un'organizzazione che può riuscire a unire tutte le anime delle donne del mondo. E noi come l'EPG offriamo la nostra lotta e questa nuova vita delle donne, nuova vita dei civili, dei popoli, offriamo tutte le donne e compagnie che qua presentano. E noi chiamiamo tutti e tutte compagnie e compagnie che sostenete questa rivoluzione, sostenete questo gruppo che sta facendo una rivoluzione per tutta l'umanità. Noi abbiamo fatto un giuramento, abbiamo fatto un promesso, alle donne del mondo che su questo campo non siamo lì come donne del Rojava, siamo lì come donne del mondo, quelle che da anni sono sotto pressione, siamo arrivati a questo livello, in questo punto, e questo non significa che fermeremo. Noi andremo ancora più avanti, avanziamo questa lotta. Noi sappiamo che responsabilità abbiamo preso. Nella anima delle donne, nella cultura delle donne non c'è la guerra. Noi non siamo un gruppo militare, un esercito per fare guerra, per fare attacchi. Noi siamo un gruppo che si crede in se stessa e si difende se stessa. Noi abbiamo preso questa filosofia da Abdullah Öcalan che sottolineiamo in questo punto, se avremmo la potenza del mondo non facciamo nessuna cosa. nessun attacco a nessun popolo. Però se tutti i poteri del mondo riuniscono e fanno aggressioni e attacchi sul nostro popolo e sulle nostre dignità, noi difenderemo noi se stessa fino alla fine, fino all'ultimo goccio della sangue. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che abbiamo visto qua è questo calore del popolo italiano verso di noi e questa avvicinanza di il popolo italiano verso della nostra rivoluzione che non fermerà, crediamo che questo popolo aumenterà il suo sostenimento e collaborazione e quando torniamo giù ci spiegheremo ai nostri compagni e compagnie questo popolo italiano sta con noi, non siamo da solo. Grazie. 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 Grazie a tutti. abbiamo fatto i nostri amici un po' a vicino il게 il Coupane si amici quello che ha fatto la mia famiglia che hanno fatto che ha fatto il nostro progetto che ha fatto il nostro paese e quello che ha fatto e il nostro paese e il nostro paese e il nostro paese E' un po' di persone che vivono, che vivono, che vivono, che vivono. E' quello che sono stati massacrati due giorni fa a Copane. Anche altri popoli, quelli che hanno caduto, quelli martiri che hanno caduto per la libertà, hanno fatto una lotta per il futuro. Noi non dimenticheremmo la nostra responsabilità che noi dobbiamo combattere. E noi fino alla fine, che è quello che abbiamo fatto, ancora poco. E faremo ancora di più per portare la libertà, per arrivare a pace a tutto il mondo. Viva, viva fratellanza dei popoli, viva, viva resistenza dei popoli, viva, viva resistenza del Rojava. GIN GIAN ASADI! GIN GIAN ASADI! Va bene, va bene. Se l'ultima parola era così, lui è dimenticato. No, ancora dovevo dirlo, però... GIN GIAN ASADI! E significa, così traduco in italiano, DONNA, VITA, LIBERTÀ! GIN GIAN ASADI! 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 GIN GIAN ASADI!